Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col Meteo di TV6. Si prospetta un weekend complessivamente stabile e soleggiato su tutta Italia, questo grazie al rinforzo dell'anticiclone degli azzorri verso est, che tenderà quindi a inglobare tutta la nostra penisola. Favorirà ovviamente un graduale aumento delle temperature, però saremo ben lontani dal caldo eccezionale dei scorsi giorni, della scorsa settimana. La situazione in Italia quindi vede la prevalenza del cielo sereno, situazione identica in Abruzzo, avremo sole ovunque, qualche addensamento in occhio, nelle aree interne, ventilazione via via sempre più debole, ma comunque sempre disposta. Le quadranti settentrionali, le temperature in leggero aumento, le massime tra i 28 e i 31 gradi, le minime tra i 14 e i 22 gradi, sono temperature comunque attorno alle medie del periodo senza alcun eccesso. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Grazie a tutti.